L'acqua per me è oro Guarda ti dirò una cosa, io vorrei tenere un rubinetto per quando mi serve l'acqua aprirlo e poi lo chiuderei quando non mi serve La mia famiglia è 162 anni che fa barche, sono la quarta generazione e ho mio figlio Giovanni che ha 31 anni, che è in azienda e che è la quinta La grappa è un prodotto vivo, ha bisogno di riposare E riposando alcuni mesi le parti si amalgamano, diventano più armoniche, si smussano tutte le angolature che potrebbero stridere E alla fine si può avere un distillato veramente straordinario Noi abbiamo fatto le maschere prima del carnevale Adesso molta gente riconosce il carnevale di Venezia attraverso questo volto neutro senza espressione decorato Il mare è una specie di medicina, sempre verde Quando poi ti trovi in mezzo al mare, su una barca, a viverti gli elementi tutti i giorni Ritrovi quello che la natura è, cioè è una cosa molto più forte di noi